Se volete cercare la forza laterale, per cui se una persona ti spinge lateralmente, devi sentire comunque tutto sul bordo. Questo, noi diciamo pass, ma non è perfetto. È perfetto in realtà, in effetti. La cosa perfetta è per te, che è la forza. Ma tu hai chiesto, non hai forza. È un chiesto, è un chiesto, è un chiesto, è un chiesto. Allora, io, il mio cipasto attraverso lui riesco a supportarlo, però quello che non riesco a fare è dare fastidio a lui, in qualche maniera a fargli sentire la mia presenza. Cioè, se lui mi tocca, mi sente, e io lo rego. Ma non lo rego, non lo rego, non lo rego. Se, però, la differenza con lui, è se lui lo fa, io non solo sento la sua presenza, ma non solo sento la sua presenza. Io lo sento, io lo sento, io lo sento, io lo sento, io lo sento. Quello che io sento è che mi prendo i miei piedi, fisicamente. Cioè, lui, in mente, la conoscenza, non mi sollevano. Io non metto molta forza, non mi spostaria senza nessuna difficoltà. Semplicemente, tenendo l'idea, non facevo molta forza, era semplicemente il contatto che mi sposto. Questo è quello che... di questo lavoro è molto quello che dicevano. Cioè, questo è... Chigurale. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.